Dopo sette anni dal terremoto abbiamo ancora mille sfollati fuori dagli alloggi dell'Ater di Terra. Una situazione davvero grave, drammatica, per questo abbiamo coinvolto la Commissione di Vigilanza, ma come al solito la Giunta è assente. L'assessore competente Quaglieri non ha partecipato alla riunione della Commissione e nemmeno si è giustificato. Assente anche la Presidente dell'Ater per ragioni di salute, abbiamo avuto i rappresentanti degli sfollati e la dirigente dell'Ater stesso. Una situazione difficile, drammatica, oltre 60 condomini offesi dal terremoto. Ad oggi la situazione è molto grave. C'è stato un confronto, ci auguriamo che la situazione possa migliorare, ma la Giunta regionale deve aiutare l'Ater di Terra attraverso dei comandi, attraverso delle mobilità, dei trasferimenti di risorse umane per aiutare e affiancare i dieci dipendenti dell'Ater di Terra. Poiché lì c'è stato il terremoto, lì ci sono le difficoltà, la Giunta regionale deve farsi carico di tutto questo, così come deve farsi carico di coprire la perdita di bilancio che c'è stata, oltre 400 mila euro, come facemmo noi nel 2018. Ma purtroppo abbiamo registrato un distacco, una distanza, da parte della Giunta regionale verso i mille sfollati dell'Ater di Terra. In più, abbiamo chiesto all'Ater una maggiore trasparenza, una comunicazione più puntuale, ai 61 amministratori dei 61 condomini degli Ater, affinché tutti sappiano le date, il cronoprogramma, i tecnici coinvolti, le imprese, ma soprattutto la fine dei lavori e la possibilità di rientro nelle loro case. Grazie.